Dovrà essere un frugionone diverso perché perdere una partita così fa male e perciò una grande batosta per forza ha una reazione o qualcosa. Credo che non è questione di tattiche o di godine, è una questione mentale che noi dobbiamo superare. Io dico che noi non siamo la squadra più forte del campionato, noi siamo un'ottima squadra che giochiamo in un campionato dove ci sono anche altre, per me il Chievo, l'Empoli, il Benevento, il Cremonese, anche lo Spezia, ottime squadre, poi forse ne dimentico qualcuna, se mettiamo una mentalità giusta possiamo lottare per l'obiettivo, ma con la mentalità giusta. Per giocarci l'obiettivo che vogliamo dobbiamo tornare a avere quello spirito, una squadra umile, forte, determinata che quando viene qualcuno, quando va in trasferta per vendegare alla pelle, tutto qua. L'Ascoli è una squadra forte, che è molto fisica, ha allenatore giovane, ha idee, il solito l'Ascoli, anche l'anno scorso l'Ascoli era come stile questo qua, squadra rognosa, squadra rognosa che va affrontata nel modo giusto. Grande rispetto perché è una squadra che questa categoria la conosce bene e poi hanno uno spirito che anche loro hanno costruito nel tempo, sono molto battaglieri, perciò è una partita difficile, parlo sempre che è la nostra portata come tutte le partite che giocheremo, però vedremo. Ma io mi aspetto voi, che vi aspettate voi? Allora, mi aspetto pure io? Io ho detto già, allora non è facile perché appunto la società si è mossa, ma tantissimo, il Presidente ha proposto soldi importanti e perciò ha fatto lo sforzo importante, poi bisogna che le cose si incastrino perché poi qualcuno deve venire e perciò adesso vediamo, il mercato chiuderà, comunque qualcosa la società sta facendo per cercare la punta.